Che cosa è Expert AI Email Management? È una soluzione che consente di gestire nel modo più efficace flussi consistenti di messaggi email inviati da clienti o utenti interni che necessitano di una risposta o richiedono l'attivazione di processi. Secondo alcuni recenti studi, circa un terzo del tempo lavorativo del personale è dedicato alla gestione della posta elettronica e tre quarti della conoscenza utile ai processi di business è archiviata proprio nelle caselle email. Una situazione non ottimale che comporta sprechi e inefficienze. La soluzione di Expert AI per la gestione delle email riduce drasticamente le criticità tipiche di questo processo. Mancanza di tracciabilità dei messaggi, incapacità di gestire i picchi e i volumi crescenti di email, inefficienze nei processi. In che modo? L'avanzata tecnologia di intelligenza artificiale di Expert AI riesce a classificare automaticamente decine di migliaia di email analizzando il contenuto dei messaggi e gli eventuali allegati, classifica ogni messaggio in base all'argomento trattato ed estrae i dati utili per attivare eventuali processi dispositivi. Attraverso l'integrazione con i principali software di Robotic Process Automation, la tecnologia di Expert AI permette inoltre di generare automaticamente specifici messaggi di risposta e può assistere in tempo reale i clienti per garantire una straordinaria customer experience. È inoltre una soluzione per la gestione delle email scalabile ed efficiente, in grado di rispondere a qualsiasi nuova esigenza organizzativa in modo flessibile e affidabile. Grazie a Expert AI Email Management, la tua organizzazione può gestire le richieste che arrivano tramite posta elettronica con maggiore efficienza, accuratezza e precisione. Migliora il tuo business. Scegli l'intelligenza artificiale. Scegli Expert AI. Scegliere il tuo business. Scegliere il tuo business. Scegliere il tuo business.